La Regione Lazio ha investito molto su Fiera Cavalli di Verona perché crediamo nelle potenzialità del cavallo, il cavallo non solo come storia, come cultura per riscoprire le nostre radici ma anche per un nuovo tipo di turismo, di escursionismo, di scoperta del territorio. Il Lazio è una regione integra, confina con altre regioni come la Toscana e l'Umbria dove si possono fare percorsi integrati, interregionali e quindi il cavallo può permettere questo tipo di turismo. Tra l'altro il cavallo per noi è una figura che ci riporta alla tradizione, alla storia, da strumento di lavoro oggi viene utilizzato come strumento di svago. Il rapporto tra il cavallo e la Regione Lazio è sempre più stretto.